Agropoli si conferma anche per il 2020 bandiera verde dei pediatri. Le spiagge di Trentova e del lungomare San Marco ad Agropoli rientrano infatti nell'elenco degli arenili a misura di bambino che fanno riferimento ai 144 comuni italiani, spagnoli e quest'anno anche romeni, insegnati dell'importante riconoscimento. La bandiera verde viene assegnata dal 2008 secondo specifiche regole, tra le quali acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per fare torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare e nelle vicinanze gelatierie e locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi. Con grande soddisfazione, afferma il sindaco Adamo Coppola, abbiamo appreso che le nostre spiagge del lungomare di Trentova, anche per il 2020, rientrano tra quelle a misura di bambino. Un importante riconoscimento è quello della bandiera verde assegnato dai pediatri secondo una serie di requisiti. Siamo sempre molto attenti alle nostre spiagge e al nostro mare, perché tra le maggiori ricchezze della nostra città, e a breve, trascorso questo periodo, contraddistinto anche da forti mareggiate, saranno ripulite, per restituire loro la giusta dignità. A breve, conclude, ci saranno importanti novità anche per quanto concerne la gestione della posidonia spiaggiata. Mare limpido, fondali bassi, luoghi per il divertimento e il gioco dei bambini, sottolinea Rosa Lampasona, assessore con delega all'ambiente, sono le caratteristiche ideali per una vacanza in famiglia e la nostra agropoli si rivela ogni estate tra le location preferite, dove trascorrere spensierati momenti di relax.